Ehi tu, che ci fai lì? Non rubare il mio posto! La vita proprio bella, fresca, fresca. Oggi ragazzi vi faccio un video bellissimo perché è appunto una challenge. La sfida della partita e della challenge è quella di vincere la partita senza utilizzare neanche un'arma. Quindi non è possibile fare danni ai nemici, non è possibile prendere le armi e sparare con le armi e l'unica cosa che si possono fare ragazzi sono le seguenti. Lutare le bende, gli scudi, comunque tutto ciò che fa parte delle cure, le cure si possono utilizzare, le trappole che fanno danni non si possono utilizzare, si possono utilizzare i vari veicoli per muoversi, si può appunto buildare ovviamente per forza, se no è impossibile. Quindi ragazzi sì, quello che vedete nella partita ragazzi è devastante perché, perché a fine game ho fatto un clutch da sola perché sì ragazzi eravamo in duo, in duo e sono rimasta da sola in endgame. E secondo voi ragazzi ho vinto la partita o l'ho persa? Prima di vedere il video dovete scrivere qui sotto se ho vinto o ho perso, ma non dovete vedere la fine della partita, mi raccomando ragazzi, non imbrogliate perché vi vedo, vi vedo, sono dietro di voi, vi vedo furbacchioni. Quindi guardate tutto il video ragazzi perché è davvero bello perché a un certo punto della partita sono anche arrivati degli amici che sono entrati nella nostra stessa partita senza che noi lo sapessimo e ragazzi ci hanno portato il mondo, ci hanno portato materiali, cure, scudi, tutto. E poi purtroppo l'abbiamo dovuto far uccidere. Quindi ragazzi non perdiamoci in chiacchiere, guardatevi questo video, vi ricordo di lasciare da subito un bel mi piace a questo video per supportarmi, vi ricordo di utilizzare il codice creatore Coratomist nello shop di Fortnite per avere la mia stessa mira e vi ricordo ragazzi che per il mio merchandising personale fate il link qui sotto in descrizione. Quindi ragazzi guardatevi questo video e buona visione. Ok basta farò la scema, andiamo al video ragazzi. Scusa ma allora prenditi tu la race, io faccio drone e villa. Se no si ok va bene. Ok 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 ora. No voglio vincere il game no weapon, cioè per forza. No vieni che è lo spagnolo, è un po' forte sono in spagnolo. Eh 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 lo voglio, si 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 si. Ti chiamavano... Betlemme te chiamavano. Bambino. Non c'entra Betlemme, mica in Spagna oh. Mamma mia. Mamma mia che ridicolezza, ridicolo. È ri... Purtroppo non ho nulla di utile, solo cura. Ma mi cesa no? No, è uno con la bolle. Si è attaccato a me. Eh, è un amico. È un amico, è un amico fra... Oh mamma mia. Oddio, 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 oddio. Ma siete se... Io sono a full di metallo sono. Ma tu sei full... Andiamo. Grazie ragazzi. Ok ci vuole, ci vuole le... Ok ragazzi venite qua. Sulla torna. Allora ragazzi, venite qui. È arrivato il momento di fare una cosa. Prego. Ti faccio strada ragazzi, venghino signori, nella mia nuova reggia. Ma se si votano sull'albero? No, sta a cazzo. No sta a cazzo. No sta a cazzo. No sta a cazzo. Vai ragazzi. Non prendete l'albero mi raccomando. Buttatevi. No. Pagate cara devi bevi Bruttissimo fare queste cose mi sento in colpa di giuro si gassi la suicidio Ma come sarebbe la baller tu? Eh loro sono tornata a prenderla Oddio io Eh infatti non lo so perché non le prendo Ma vogliamo buildare o ci nascondiamo? Nascondiamoci è meglio No Mi nasconderei Nascondiamoci Ti sento una barca ti sentono Vieni sotto la baller che ne vado Vieni sotto la scala Ma la sera non è la baller Sanno che siamo dentro Era ci succede Non ho visto Vida vida Sto ballando E' uscita nel battere Sto dovuto avere del calzo questo E' uscita nel bordo Sul monte Sul monte Vieni con me Sali su questo monte Ma in safe? Sì 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 Però ai ground non ci bussiamo A parte senza gli stream sliver in quel caso C'era il drop che volevo prendere Lo provo a prenderlo Oh no 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 Mi sono però Io non ho i mini Ti butto la baller Ferma Prendi la Vai Vai dai miei mini a me le due con le comité che sto scendendo con la bollera siamo e facciamola vieni qua vieni qua non puoi farlo ma ne vuoi sti troppi no vedi no 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 mi sono buggato pure devo attorrare ma è possibile che se non fai da no no ma l'avevano detto che c'erano si mi sapeva pinna barco è pieno di ruta forse pure max mini 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 si 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 pieno c'è roba ma non ci conviene conviene che quelli si fai ma comunque sia come ha fai dato a noi cioè ha fai dato a me questo che era la campana del dentro là e ma come faccio da sola non lo spieghi tu la fai facciamo che uso le trappole ma guardali come stanno treardando ma li vedi mica facile killarti se non hai le armi 98 98 ma non serve che bildi non ti stanno cagando calcolando ma guarda questi oh il capo questi si gioca i soldi si chiama una morta non la massa di sorma si è morta una tempesta vai tirai la tirai la tirai la tirai la uno l'ho tizio eh di sorma si una morta entrambi si è salvato si è salvato si è passata no non lo si so puoi trovare a giocare l'endegame orchi di fuori chiudilo tappalo capito che mettevi la scala e lo lasciavi morire fuori sei vabbè fatti materiali diametri si Fai di shot come no? Quasi non ti vede fino all'ultimo Magari che si un'altra Ok, potgo che non hai materiali Forse non li ha No, c'è sotto, non ci credo Oh, Dio! Dai, dai, dai Oddio, siiii Oddio Let's go Era pure uno streamstimer questo, margà Non so A me mi ha chiedato il streamstimer Madonna ragazzi che place Senza armi, senza più Mazz Mamma mia, meno male che mi sono Hai visto che ho fatto quel condizionatore per farmi uno di ferro e farmi il muro? Se non saltava e mi uccideva col combat Si, hai visto Da canale ragazzi Mamma mia Un grazie speciale anche a coloro che Ci hanno sims deperato ma ci hanno voluto bene Che ci avete portato ragazzi, Mazz, Shield Tutto praticamente Ma tu Te l'aspettavi questo clutch, Barca? No Non me lo sento No Che bambini Ciao 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 Ciao